Allora come al solito i pistonieri si sono attrezzati visto che è qualcosa che riguarda la comunità per uno sparo tricolore, quindi credo che questo sia, o forse no, o forse il primo colpo di inaugurazione, non sono riuscito a trovare documentazione se effettivamente anche l'inaugurazione del 1912 si è stata fatta con i trombini, questo non sono riuscito a capirlo ma sicuramente qualcuno qua dei Ferrari di quei di Ceno che abitavano fa sicuramente ha tirato fuori il trombino e ha dato una botta, ecco adesso credo che siano pronti e qualcuno ha detto ah che avvasò il ponte, se non avvasò finora ha paura che non avvasò altro. Credo che questo sia il modo migliore per rendere grazie e onore i nostri predecessori. grazie i pistonieri facciamo un applauso anche a Lorenzo Maimeri che ha fatto un bel lavoro, grazie. Mi scuso se mi ho rotto le scatole ma ci sono talmente tante cose belle da dire che va bene le ho saltate ma insomma va bene. e apriamo il ponte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti